colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi di iscrivervi al canale aiutarmi a crescere attivare la campanellina e vi ricordo il nuovo contest sul canale ragazzi il contest road to 15k ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest troverete tutti i miei contatti contatti del team glitch e tutto il resto detto questo vai con la intro e ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un glitch dei soldi fa siu fa siu ragazzi si ebbene si facile facile proprio easy che se ve lamentate pure qui veramente io non lo so invece di den joystick per regalo una pistola così ve la date una bella pistolatina insomma e nulla allora in che cosa consiste il glitch l'unico requisito di cui abbiamo bisogno è la base operativa e il cannone orbitale ragazzi guardate bene i miei soldi che tra poco diventeranno di più insomma allora come sapete il glitch del cannone orbitale è stato mezzo facciato come state vedendo questi sono i miei soldi ragazzi fate bene attenzione alla cifra che è riportata come vi dicevo il glitch del cannone orbitale è stato facciato con questa patch 1.46 però abbiamo già un after patch e quindi nulla allora per fare questo after patch abbiamo bisogno ovviamente della base del cannone orbitale e di alcuni completi in primis la prima cosa che dobbiamo fare è mettere un completo come state vedendo aspettare la bollita naranja o meglio il pallino arancione ragazzi e una volta che avete fatto ciò che pallino arancione sarà scomparso andate nel cannone orbitale selezionate un colpo andate avanti fino a che non vi scalerà i soldi una volta selezionato il colpo come vedete mi ha scalato i soldi quando siete qui l'unica cosa che dovete fare è uscire è semplicissimo ragazzi veramente come bevese in bicchiere d'acqua quindi a questo punto una volta che siete usciti come avete visto ci ha rimborsato per 750 mila però il glitch non è finito ragazzi perché è ovvio che ce l'abbia rimborsato e no quindi andiamo nuovamente in completi senza fare il defile scegliete un completo qualunque uno alla cazzo quello che vi gusta di più l'importante che compare il bollino arancione o meglio il pallino arancione quello del caricamento ragazzi oggi mi sento proprio simpatico mamma mia come una sampa delle palle e vabbè niente allora una volta che compare il pallino arancione cazzi e mazzi riandate sul cannone orbitale da qui facciamo i seri ragazzi d'ora in avanti faccio al serio quindi selezioniamo il colpo che vogliamo selezionare se siamo in privata da 500 se siamo in pubblica da 750 selezioniamo il colpo da 750 e teniamo pronto il lettore multimediale ragazzi mi raccomando fate bene attenzione a ciò che fate che poi in voglio senti lamentare quindi a questo punto sparate il colpo aspettate il puntamento ovviamente dovete vedere il puntamento una volta che avete sparato il colpo vedete il puntamento andate in lettore multimediale tasto ps lettore multimediale aspettate che si avvia il lettore multimediale state qualche secondo sul lettore multimediale non ci dovete stare un'eternità dovete stare qualche secondo non so quei cinque secondi roba del genere e poi uscite dal lettore multimediale dopodiché tornate in game quando tornate in game quello che vedete vedete non è importante uscite immediatamente dal game andate su impostazioni di rete e disconnettete la connessione ragazzuoli semplicissimo non mi raccomando non fate il test di verifica di rete perché quello era il glitch precedente ed è stato facciato quindi attendete qui una decina di secondi poi dipende dalla vostra connessione se vi comparirà subito tutto l'ambaradam sotto o meno io con dall'alto dei miei mille megan è vero un cazzo ragazzi ho 20 mega per puzza comunque è tornata subito una volta tornati in game vi apparirà questo messaggio e lo dovete accettare prima non si accettava ora si accetta quindi ci dirà in basso a destra come state vedendo ci darà questo messaggino con la bollino arancione insomma no stiamo su italia 1 bollino rosso verde arancione dai con la rodellina insomma rega per capisse una volta che avrà fatto il tutto ci dirà ti stai unendo a gta online se vi butterà nella storia evidentemente avrete sbagliato qualcosa e il glitch non starà funzionando questo ve lo dico ragazzi quindi se riuscirete a seguire tutti i passi come l'ho fatti io cioè a livello dei brati più lento del mondo perché l'ho fatti veramente lentamente i passaggi e vi dico anche una cosa ragazzi che il video è one take nel senso che sono entrato ho registrato e ho portato sul canale nel senso che l'ho provato solo una volta e va benissimo questo ve lo posso garantire quindi non è un fake tutti gli altri video che stanno in rete non sono fake e quindi mi raccomando approfittate di questo glitch io l'ho fatto in pubblica però potete farlo anche in privata fatelo un docasso dove pare fuori alla porta di casa il giardino da vicina andate dove pare a farlo sto glitch però comunque sia è facile da fare e colgo anche l'occasione ragazzuoli per ricordarvi tutti quanti i link che trovate sotto a sta cazzo di descrizione che un giorno all'altro forse deciderete ad aprirla perché comunque la dovete aprire prima o poi sta cazzo di descrizione vi ricordo il contest dei 15.000 iscritti ragazzi in cui regalerò delle cose ok non vi sto qui a spoilerare quello che regalo se volete sapere che cazzo regalo per il contest dei 15.000 andate sotto il video aprite il link del contest e vedete sto cazzo di video vedete che ve regalo ragazzi ok quindi una volta respawnati in sessione ragazzi come avete potuto notare in alto a destra 750.000 rimborsati ragazzi ma se non vi basta perché magari non siete riusciti a vedere perché c'è scritto iscriviti al canale resta aggiornato ve lo faccio vedere qui ragazzi ve lo faccio vedere qui come vedete i soldi sono aumentati abbiamo fatto il glitch e siamo pronti per ripeterlo una cosa ragazzi mettete il respawn in base operativa così risparmiate tutto il tempo risparmiate perdite di tempo e cazzate varie per stare lì a andare detto questo ragazzi non ho veramente nient'altro ad aggiungere anzi una cosa ce l'ho ad aggiungere questa è la data in cui ho registrato il video ragazzi data e ora in cui ho registrato il video siccome dall'alto dei miei mille mega ci metterò un po a caricare video pressa poco un milione di anni non è vero ci metterò un po quindi datevi una regolata e vedete voi a questo punto veramente l'unica cosa che vi posso dire il glitch funziona non rompete il cazzo imparate a farsi cazzi di glitch un saluto a tutti e al prossimo video ciao belli ciao